Papa Francesco esorta i giovani nella giornata mondiale a loro dedicata. Siate la coscienza critica della società. Ignazio Ingrao. Non smettete di sognare e non abbiate paura di essere coscienza critica della società. L'invito di Papa Francesco ai giovani. Lucrezia e Stefano si affacciano con lui all'Angelus e Bergoglio scherza con loro. Ma tutto al corso è creativo. Testimoniamo che credere in Gesù è bellissimo. Ma guarda, è bello questo. Giornata mondiale della gioventù, messa di fronte a 2000 ragazze e ragazzi della Diocesi di Roma. Ecco il vostro compito dopo la pandemia, dice Francesco. Alzate lo sguardo oltre la notte. Siate costruttori in mezzo alle macerie e trovate sempre il coraggio di andare controcorrente. Tanti di voi stanno criticando per esempio contro la contaminazione ambientale. Abbiamo bisogno di questo. Fate chiasso, chiede il Papa ai ragazzi, perché il vostro chiasso è il frutto dei vostri sogni. E un giovane che non è capace di sognare è vecchio prima del tempo. Mordete la vita, raccomanda Bergoglio, senza scorciatoie e senza falsità. Sono ore di soccorsi.